La soprintendenza si è già mossa sotto l'aspetto burocratico e amministrativo, nel senso che qui occorre un pronto intervento d'urgenza che però, non essendo stato ovviamente il danno previsto, non può essere messo sul programma ordinario, quindi la sommo urgenza deve essere autorizzata da Roma. Che cosa abbiamo fatto noi? Noi già ci siamo mossi, abbiamo già individuato l'impresa che dovrà realizzare i lavori, è Falcino. Abbiamo contestualmente fatto la perizia dei lavori e quindi stiamo aspettando l'autorizzazione da Roma, dal Ministero, per poter poi fare gli atti conseguenti che sono ovviamente la consegna dei lavori, prima ovviamente la messa in sicurezza perché dovremmo mettere in sicurezza la facciata perché non possiamo ovviamente mandare gli operai a lavorare in una situazione di questo tipo. E dobbiamo aspettare la vostra da Roma per il finanziamento e poi iniziamo immediatamente. Torno a ripetere, quello che era di nostra competenza, noi già siamo punti, sappiamo quando è l'importo della perizia e le cause probabilmente è l'espulsione, il tempo che ha portato alla caduta di questo paramento murario. L'intervento che faremo immediatamente di messa in sicurezza sarà un tavolato che prende ovviamente la superficie tra le due finestre e che consentirà poi a chi opererà sotto per il montaggio del ponteggio di essere assolutamente in sicurezza. Noi faremo un'operazione di cucis-cucci, la pietra ovviamente e l'arenaria perché parliamo dello spessore di circa 10 centimetri come conci in arenaria, quindi fisseremo ovviamente con dei perni in acciaio alla muratura queste nuove pietre e tutte quelle che troveremo che hanno dei problemi ovviamente, visto che monteremo il punteggio su tutta la superficie. Quelle che possono essere recuperate ma credo che siano una parte minimale, perché vedete voi, cadendo da quell'altezza credo che sia rimasto ben poco. La Curia ci ha fatto una nota che non riesce a avere fondi a disposizione quindi è gioco forza che lo Stato si sostituisca.